Oggi siamo qui nella Basilica Palladiana per il premio De De Luminosa. Ritengo questo premio un premio molto interessante perché premia la committenza. E purtroppo noi oggi ci dimentichiamo troppo spesso che questo lavoro è emosso dal committente. Cioè il rapporto committente-architetto è un rapporto strategico per l'architettura. E molto spesso più un committente è capace, è esigente, e più sprigiona delle energie che producono della buona architettura. Devo dire che lo sforzo per organizzare questo premio è notevole ed è uno dei pochi premi che ormai è affrancato da 25 anni. Per cui complimenti all'organizzazione e spero che prosegua in futuro.